Continua l'avvicinamento che ci porta allo scontro dei preliminari play-off tra Cagliari Ranieri e Venezia di Vanoli, che sarà diretto da Mr. Marco Di Bello della sezione Brindisi. Inoltre, va sottolineato che sono proprio loro che, tra gol e vittorie passaggi, prese parte a più gol 26 per il finlandese, 25 per l'italiano-peruviano come riporta il sito Labunari. In conclusione, l'ex Bayern Leverkusen ha potuto prendere parte in almeno un gol nelle ultime sei presenze. Grazie.